Hai mai pensato che un paziente non ci contatta perché la terapia non è come lui la desidererebbe? Ovviamente non vendiamo gelati, non possiamo accontentare tutti i gusti della persona, però è anche vero che siamo in un periodo in cui i sistemi sanitari vanno co-costruiti con la persona e non possiamo neanche ignorarli completamente i suoi desideri e il suo modo di voler approcciare la terapia. Capire le nuove esigenze della persona per andargli incontro è d'obbligo, perché altrimenti va a finire che il nostro modo di proporre terapia e servizi sanitari diventa obsoleto e la persona semplicemente si rivolge a qualcun altro. Prendi un esempio, nel 2015 la PricewaterhouseCoopers ha visto che dal 2013 al 2015 il tasso di accesso alle app del wellness, cioè per il benessere, è raddoppiato. L'idea comunque è questa, le persone non stanno ad aspettare noi, quindi riuscire ad adattarsi e adattare quello che facciamo alle nuove esigenze è d'obbligo. Un concetto molto interessante che va in questo senso è quello che ha esposto Nicholas Cummings, che è past president della APA, l'American Psychological Association, 30 anni fa circa. Si chiama psicoterapia intermittente, intermittent psychotherapy. Praticamente il concetto qual è? Quello di fare in modo di dare al paziente la terapia di cui ha bisogno, quando ne ha bisogno, per il numero di sedute che ha bisogno. Cummings diceva di avere un pochino l'idea di essere quasi come dei dentisti. Puoi andare al dentista per una semplice igiene orale, oppure per un percorso più lungo e strutturato. Con i nostri pazienti dovrebbe essere lo stesso. Nel momento in cui la persona viene, dobbiamo dargli la possibilità di venire anche per un solo incontro, o per pochi incontri, o per tanti incontri, a seconda di quello che è il suo problema e di quella che è la sua necessità del momento. Questo che significa che alla fine ci saranno terapie più lunghe o terapie più brevi, a seconda di quella che è la necessità di quella persona in quello specifico momento. Una cosa che puoi fare tu è adattare la terapia al tuo modo personale di farla. Quindi puoi fare la terapia al bisogno, o solo in particolari giorni, o per particolari pazienti, o per particolari problemi. L'importante è che inizi a dare alle persone la possibilità di venire quando loro ne hanno bisogno o nel modo in cui ne hanno bisogno. Quello della terapia intermittente secondo me è un concetto molto utile. Io peraltro ci ho basato un progetto, OneSession.it, che unisce questa idea alla terapia a seduta singola. È un'idea, non è l'unica, anzi se vuoi proporne anche tu su questa scia ti invito a farlo all'interno dei commenti, però dobbiamo tenere in mente una cosa. Cioè il mondo sta evolvendo, la scienza sta evolvendo, i servizi sanitari stanno evolvendo, le persone stanno evolvendo, e tu che fai?